salve buonasera a tutti appuntamento con l'estrazione del 23 se non mi sbaglio e questa sera come avete potuto verificare siamo entrati stiamo entrando nel ciclo della luna con i vertibili e con il 19 40 quindi uscito il 19 40 stasera non pubblico lo scontrino perché ho poco inchiostro e il 19 40 uscito su genova poi abbiamo milano con l'uno e tre e poi avevo dato questo filotto da giocare su palermo ovviamente sono da giocare sempre su palermo però possono anche uscire su napoli e roma e dato che avevo scritto prossime estrazioni vedete capisco che è un filotto però diciamo che qualche qualche piccola soddisfazione anche giocare su ruota con otto numeri visto che non dovevate giocarlo magari per un sacco di tempo si poteva fare anche con pochi soldi allora poi è uscito ancora l'uno col tre e avevo dato appunto queste delle previsioni le ultime che dovevano uscire e ne mancano ancora due allora per quello che riguarda l'area 51 per quello che riguarda l'area 51 allora vi do informazione circa diciamo delle previsioni ovviamente che sono uscite poi dopo le controllo meglio e abbia almeno io e qualcun altro vedete abbiamo fatto una bella paterna col 65 e 66 e altri due numeri come vedete le quaterne non mancano insomma ecco la quaterna è stata fatta anche stasera io vi auguro una strepitosa giornata voglio informare tutti voi che mi seguite tutti indistintamente che ho risolto il problema del dei video su rumble quindi domani mattina cercherò di fare un video interessante su rumble riprendiamo diciamo questo quella piattaforma se avete degli scontrini me li potete mandare io vi auguro una strepitosa giornata serata calda e con un buon gelato io oggi mi sono fatta il gelato alla banana ieri al melone l'altro ieri alla mela mi sto facendo i gelati da sola che non c'entra niente con i numeri ma intanto l'ho voluto informarvi vi do appuntamento domani mattina ciao a tutti e grazie grazie